ragazzi buon dia a tutti e come promesso oggi ci troviamo nella seconda puntata del video della schiusa dei fantastici pulcini di cocincina e allora non ci resta che andare a vedere il tutto e a scovare queste piccole peste budodoo e allora mi raccomando restate qui eccomici stiamo per entrare nella voliera ma tu qua eri finita e non t'arruffare ma che fai dai che lo sappiamo tutti ormai che sono nati si sentono chissà quante ne hai di sotto e 15 minuti dopo dove si saranno cacciati quei birbantelli e finalmente ci siamo li abbiamo messi in protezione insieme alla mamma chioccia sono nove splendidi pulcini ora ve li mostro ma che bellini ma si danno bacetti guardate che corona stupenda alla mia chioccia cercano e per loro fortuna hanno un caldo e dolce riparo insieme alla loro mamma e tu che fai e finalmente è arrivato il momento dello spuntino ma che vuoi mi è scantuleata ciuppa ecco che la madre rispezzetta i semini di grano complimenti ottimo lavoro great job grazie a tutti E come se li criano? E quest'anno il record del primato va a questa splendida mamma Che ha pensato a regalarmi i primi pulcinotti dell'anno E adesso tocca a quell'altra mamma robot La nostra splendida incubatrice Inizia la raccolta delle uova Fanny! Mi sa che ci sarà il pienone Ecco lo sapevo L'ho intasata Non ce ne entrano più E non ne voglio più Abbiamo pure l'uovo e il cioccolato Ma l'incubatrice è satura Mi sa che me la devo comprare un uomo Per forza E speriamo che almeno qui tutti andiamo ripotando Basta uova Oh no! Ma che stanno facendo? Ancora uova Le vuole comprare lei? Ma no! Basta uova Oh no! Basta! Ma quante uova? Basta! Basta uova! Basta uova! E dove le metto? Basta uova! Basta uova! Basta uova! Sono ancora uova! Ti prego basta! Basta uova! Mi allengo! Help! Un altro uova al cioccolato! Prego! 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 E voi come state? Con questa magnifica giornata Un po' di arietta tiepida Non guasta! Mi è! Ma chi vuoi? Ma chi vuoi? Ma chi vuoi? E 19 giorni dopo? Oh ecco! I primi finalmente! Ma che bellini! C'è pure un fagianotto! L'uovo di cioccolato si è schiuso Ed è uno splendido Mongolia Detto anche fagiano comune Che varietà e che colori! Oh bottecino! Sta scatolina è un po' strettina Per loro Sono troppi Adesso provvediamo subito A risolvere il tutto Dato che i pulcini sono tanti Abbiamo preso un cartone più grande Per fargli una casetta Dei primi periodi Molto più accoglienti Confiniamola per bene Perfetto E finalmente posso trasferire Tutti i pulcini nella nuova residenza E che casa? Ma quanti sono? Eccoli finalmente al calduccio Tutti insieme! Vogliono stare vicina vicina! Questa lampadina da 40 watt È più che sufficiente Già sono ben sistemati Qualche giorno hanno voglia di stare così Poi li passeremo in una gabbietta Ecco che iniziano a familiarizzare Ecco che iniziano a picchiettare I primi chicchi di mancine Ma che belli Pimpanti E voi? Lo volete un pulcino? Scrivetelo qui sotto Con un commento Fatemi sapere Queste sono varietà stupende Con i pantaloni Ma che morbidosi I cattiglio Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Non dimenticatevi di mettere un bel like E da me e da questi splendidi pulcini è tutto Ci vediamo al prossimo video Un saluto E nella prossima puntata Ma stanno crescendo alla grande Ma sono super spugnabili Sei tolsi Ciao 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 Ciao